Eccoci amici a parlare oggi di un'azienda, l'azienda che ha brevettato il telefonino, la Motorola, questa qua è un'azienda americana che è nata a inizio anni 80, metà anni 80, in quanto praticamente mia nonna, mio nonno, i miei nonni materni, cioè mia nonna Antonietta, Antonietta Miele, mio nonno materno Francesco Morgillo, mio nonno paterno Nicola Iadaresta, ingegnere elettronico, l'ingegnere Siemens, l'ingegnere immacolata Verdicchio, l'ingegnere Iadaresta, Clemente Iadaresta, detto avvocato Iadaresta perché ha fatto il sindaco a San Felice a Cancello, brevettarono negli anni 60 il telefonino, negli anni 80 mi venne in mente di utilizzare dei nuovi ripetitori che mia nonna progettò, l'ingegnere elettronico Antonietta Miele, ve la faccio vedere spesso, però una volta in più non fa male, questa qua, e quindi praticamente facevamo dei telefonini che io disegnai, che realizzò la Motorola, quindi la Motorola in parte è mia, in parte mi deve dare dei soldi per quanto riguarda i telefonini, mi chiamo Francesco Iadaresta, vi saluto e arrivederci.